Sono Marce Roversi, siamo nello spazio dell'ospedale, nella All Art, è una bellissima iniziativa che ha fatto l'ospedale per la terapia. Diciamo che l'arte aiuta, aiuta a guarire, aiuta anche nella sofferenza, non solo fisica ma anche psicologica. Diciamo che la prima iniziativa è stata in ottobre, poi questa è la seconda mostra che facciamo, che l'abbiamo inaugurata per la festa della donna, quindi erano tutte immagini di bimbe e ci sembrava l'occasione di usare questi quadri. Il titolo della mostra viene via con me, viene via con me perché mi voglio portare nella mia dimensione, evadere, evadere dalla realtà che può essere triste oppure monotona. In genere nei miei quadri, oltre alle bimbe, metto sempre la natura e gli animali, perché amo molto gli animali e li vorrei sempre proteggere. L'altra cosa divertente dei miei quadri sono i vestiti delle bimbe. Mi diverto a disegnarli e a trovare, non so, il fiocco, il vestito, il pizzo, queste cose qua, ecco. La tecnica è grafite su legno. Il legno è un legno di fiocco perché è un legno molto chiaro, molto bianco. Poi ridisegno i vestiti, taglio delle carte, sono carte preziosi, insomma, le rincollo, poi le metto a stendere per un giorno, diciamo, poi le ridisegno perché altrimenti la carta è piatta in questa maniera, invece ha il volume, ha le ombre ed è un pochino più tridimensionale. Chi è la bambina di questi quadri? Spesso me lo chiedono. Forse sono io o forse anche gli altri si possono vedere in queste bambine. Questo dipende molto anche da chi guarda. Io penso che siano le mie varie sfaccettature. Ho il fanciullino che è me, che è ancora un fanciullino. Penso che ognuno può la interpretare alla propria maniera. Questo penso che sia il bello dell'arte. Ognuno dà il significato, quello che vede, ecco. Questa mostra durerà fino all'11 giugno. Io sono una mantovana, più esattamente di Poggiurusco, e sono orgogliosa di rappresentare il mio paese e la mia provincia qua all'ospedale. Grazie a tutti.